ciao ragazze e ciao ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale oggi video spacchettamento avon di campagna 2 però la faccio velocissima mi è arrivato il pacco adesso e praticamente le clienti li hanno bisogno subito quindi faccio una cosa velocissima allora mi hanno mandato il catalogo avon per te con le offerte riservate a noi presentatrici mi hanno mandato delle card per la festa della mamma con le quattro fragranze poi ho ordinato tre cataloghi di campagna 3 in più mi hanno omaggiato di di questo catalogo di campagna 4 con la nuova tinta insomma un rossetto detto il lip tattoo vedremo un po e avon outlet con tutte le offerte riservate a noi presentatrici dunque una cliente mi ha ordinato questo top coat che era in offerta a 3 99 poi hanno ordinato il fondotinta questo ultramatt questo qua era è nuovo praticamente appena uscito nella tonalità natural beige e ragazze questo praticamente è un fondotinta ad alta coprenza poi mi è stato ordinato questa acqua profumata al pompelmo e menta un'altra acqua profumata alla cannella e mirtillo e poi mi hanno ordinato due scrub per il col corpo sempre al pompelmo e all'albicocca che erano praticamente in offerta a oddio se ne prendevi due erano tipo all'incirca sulle 4 euro e per me da avon outlet ho ordinato due fondotinta minerali nella colorazione vediamo un attimino porcelain doll e nella colorazione credo che si pronunci così questi li ho pagati praticamente 2 euro e 99 ho voluto approfittare di questa offerta perché di solito questi fondotinta costano all'incirca sulle 10 11 euro e niente ragazzi il video è finito mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere tutti i miei video un ciao e alla prossima